E se ti dicessi che esiste un libro capace di svelarti le vere cause di questa crisi e le reali soluzioni per uscirne, sono il dottor Marco Fincati, ideatore e innovatore. Nel mio ultimo libro, Uscire dalla crisi, ho voluto svelare e rendere pubbliche le verità che il sistema ci tiene nascoste. E scoprirai le tre opportunità reali che ti permetteranno di uscire dalla crisi, globale e individuale. Vai su www.rqui.me e iscriviti alle video lezioni gratuite.